Bene, siamo alla conclusione di questo concerto per la vita da Oscar, per ringraziare sempre i Rotary di Trap, della persona di Lidio Marrotto, il barco della cattedrale Monsignor Gaspare Gubuso, ma anche all'amico Lisciante, che è il custode di questa chiesa San Agostino, e voi tutti che ci avete dimostrato calore ed affetto in questo nostro viaggio musicale e che ci ha portato nel passato attraverso le più belle colonne sonore da Oscar. Un grazie personale va al presidente della banda musicale Città di Pacego, Piro Chipinti, al direttivo e a tutti i ragazzi che hanno rinunziato ad un pomeriggio diverso da questo per condividere gratuitamente questa festa musicale dedicata alla vita. Faccio un applauso al ragazzo della banda musicale Città di Pacego. E mi raccomando sempre, come avevo detto all'inizio, aprite le porte alla vita. Questo è il messaggio di questa giornata. Adesso concludiamo, anche se poi abbiamo la conclusione ufficiale da parte del presidente del Rotary e l'esecuzione finale, dicevo, comuniamo alla grande con una raccolta di grandi successi cinematografici, quasi tutti i vincitori di numerosi premi Oscar. Un viaggio musicale che parte dal 1914 per soffermarsi negli anni 50-60 ed infine nel 1973 con il brano conclusivo di questa raccolta che evidenzia l'unica stave della nostra vita. La stella per eccellenza che deve illuminare la nostra vita, ovvero Gesù Cristo, la superstar. Buon divertimento ancora con la banda musicale Città di Pacego, diretta con onore e con amore da Bebe di 5 anni, da Bebe Desimo, Claudio Mantese. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.